In Vico Pergolella, nel pieno centro della città, è stato inaugurato il primo dei 5 micronidi comunali riqualificati su progettazione dei servizi tecnici della seconda municipalità, un investimento di circa 450 mila euro reso possibile grazie ai fondi del Pieno di Azione e Coesione, ai quali si aggiungono 950 mila euro per la gestione del nido. Alla riqualificazione del micronido Pergolella seguirà quella di altre quattro strutture i cui lavori sono in fase di ultimazione e per le quali è in pubblicazione il bando di gara per l'affidamento. Con i 5 micronidi sono 110 i nuovi posti a disposizione di bambini e famiglie che risiedono nei popolosi quartieri della zona.